Sicuramente è dovuto, da dire anche che il Como è stato appoggiato da un pubblico una volta tanto meno contenuto, meno controllato del solito. Questa è la prima rete del Como al sedicesimo, batte Dossena all'angolo Nicoletti segna, poi il rigore per il Bologna al ventiquattresimo da Pileggia Dossena che vedete ostacolato da Volpi, ecco Volpi che sgambetta Dossena, l'arbitro Menegali decide per il rigore, trasforma pari secco il tiro 1 a 1. C'è al trentunesimo una traversa del Como, da Galia ha pozzato, ecco Pozzato che tira di destro, la traversa colpita anche la linea bianca, comunque non è rete sicuramente e ci portiamo così adesso al trentaduesimo, la seconda rete del Como, palla a Nicoletti e Galia in posizione ci darebbe dubbia, segna Galia. Siamo adesso al secondo tempo, vedete solo davanti alla rete bolognese non riesce a realizzare il Comasco Lombardi, al quindicesimo Galia si sfiora il montante e a questo punto la pressione Comasca